Se tu tra due ore, un'ora o dopo domani chiedi il numero ad Antonella non c'è andare da lei perché non è il tipo di donna, non è quella giusta da dire eravamo in due, perché ti ha detto come c'era, quindi se tu pensi che con lei puoi avere una storia, ti scordi le altre Biagio, non gli interesse, non gli interesse, ma che è sta storia? Che vuoi fare? Con sincerità, cosa vuoi fare? Se lei vuole io voglio continuare, assolutamente. Io te l'ho detto in tutti i modi a sto giro Biagio, se poi ricominci a fare la cazzata è tutta tua a sto giro. Scusa, siamo in due no? Ma che vuoi dire siamo in due? Io ho detto o voglio di continuare o voglio di ancora conoscerlo. Lei vuole avere una storia Biagio, non vuole avere una trombata, ti è più chiaro? Io ho capito Maria, non mi che è una scusa. Eh sì, non è Biagio, adesso è proprio lampante. Non sto parlando di una... Stai parlando di quello ed è vergognoso che continui a dire eravamo in due, sti cavoli che eravate in due. Lei non era lì per quello e ti sta dicendo se mi avessi detto che era per quello forse potevo anche esserci, ma tu hai speculato sulla morte di suo marito, porca miseria, è grave. Grazie. 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 Grazie.